Oggi il presidente dell'Istit Tridico, lottizzato dai gribini, si era andato dall'oceania annunziata su Re 3 in mezz'ora, senza contraddittorio, a ribadire cose false e chiaramente smettite. Io ho detto, e non sono stato mai smentito, che al 15 giugno c'erano 1.200.000 italiani che non hanno preso la cassa integrazione avendone diritto, sommando cassa integrazione ordinaria, cassa inderoga e fisse. Lui è andato in televisione a dire che al 31 maggio mancavano solo 25.000 persone da pagare, il 31 maggio, e perché non parli di giugno? Bugiardo. La trasmissione in mezz'ora ha diffuso, mentre lui parlava, una tabella dalla quale risulta, secondo in mezz'ora, fonti IMSS hanno scritto che 691.000 pratiche non sono state ancora evase al 19 giugno, venerdì. Siccome le pratiche riguardano più persone, un'azienda può domandare la cassa integrazione per 1, 2, 10, 50 dipendenti, circa 700.000 pratiche riguardano sicuramente un milione e più di italiani. Ma Lucia Annunziata, benché la sua trasmissione abbia mostrato la tabella, non ha fatto la domanda a Tridico. Non gliel'ha fatta perché stanca per troppe poltrone, troppe trasmissioni, troppe consulenze, non gli è venuta in mente? Oppure non gliel'ha fatta per compiacenza verso l'ospite? Tridico ti sfido a un confronto pubblico, ringrazio il Tg2, ringrazio il Tempo, ringrazio del Debbio con dritto e rovescio, che hanno ospitato la verità sui dati. Dico a tutti i gruppi del centro-destra, abbattiamoci contro questa menzogna, ringrazio chi in Forza Italia la sostiene e dico che non ci dobbiamo fare prendere in giro dall'Inps, neanche da Caridi. Faccio un nome molto chiaro, Caridi, aggiungo questo tassello. Tridico dice bugie, la direttrice generale stava in vacanza nei giorni scorsi sull'isola di Giannutri invece di pagare la cassa integrazione. Il dirigente informatico si chiama Caridi. Vogliono fare un confronto con me da qualche parte, anche nella serie dell'Inps, se non vogliono venire in televisione. Si confrontino sui numeri e sulla verità e Forza Italia, ringrazio tutti quelli che l'hanno condivisa, sostengano questa mia battaglia. Ci sono milioni di italiani senza aiuto, non parliamo poi dei professionisti, delle erogazioni a fondo perduto, del commercio, dell'artigianato, dei ristoranti, dei bar abbandonati. Andiamo a confrontarci a Palazzo Chigi con i mandanti di Tridico, Conte, Casalino e tutti gli altri. Hanno finito i pasticcini a Villa Panfili, i pasticcini, i casalini, tutte queste loro cose con gli stuzzichini. Parlino col Paese Reale. Non mi faccio prendere in giro né da Caridi né dal signor Tridico. Vogliamo un confronto. Hanno ingannato gli italiani, non hanno pagato la cassa integrazione e tu Lucì annunziata. Perché ti sei scordata la domanda? I tuoi redattori l'hanno fatto il cartello. 691 mila pratiche in evase, non pagate, ricassa integrazione pari a milioni di italiani. Lucì, te lo sei scordato o ti sei messa in ginocchio anche te di fronte al nuovo potere.